Queste palazzine non possono essere soltanto quattro mura e un tetto sopra a testa, ma sono un simbolo, il simbolo della riscosta della dignità. Stamattina c'è stata una manifestazione di famiglie, migranti, italiani, rifugiati, e lì non c'era un discorso di nazionalità. Tutti a richiedere la stessa cosa, il diritto alla residenza. Stamattina c'è stata una manifestazione di famiglia. Stamattina c'è stata una manifestazione di famiglia.